Allora, io ti presenterei i muri, tipo, io invece andrei direttamente al bus, cioè nel... Oh! Cosa è successo? Capito? Se vai in mezzo alla stanza, perché mi facciamo tornare lì? Che cazzo dici? No! Tutto buio? Perché c'è uno con la catena qua dentro? C'era un biker! Un biker! Un biker mouse! Non ti ha che biker mice! Che cosa stai facendo? Oh, guardalo! Voglio! Sto morendo! Un biker mouse! Fisati! No! Perché c'è un biker mouse? Vai, rana! Stai usando te! C'è un biker! È finito! È già proprio di merda! Ma è chiusa la stanza! Dove c'è speterina dobbiamo andare? No! 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 Ma sentiste quelle catene? Si! E dov'è? Loro... Ah! Io voglio andare dalle casse che morò due secondi fa! Dove? Lì! Sono là dove vorrei essere! Dov'è? Eccole! Ah, c'è un buco lì sopra! Qua e due anni... Sai credo, non è così! Vieni qua! Non ti le rampicare! No! È molto vero! No! Vieni qua! No! 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 Ecco lui! Brutto stronto! Cioè vi rendete conto che a caso ho prenoti i testi giusti eh? Tu stai lì eh! Vota giusto a casa! Vai via! Vota giusto a casa! Giù! 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 Vota giù! No! No! Che hanno il padre di Messi! Che strossa! Bravo! C'è qua Charlie ancora? No! Ah! Stai con noi? Oh! 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 Oooo! Ce ne va anche il nome! Oh! Ce ne va anche il nome! Ma è grande! Dove è andato? Dove ho fa' il culo! Avevo un coltellaccio di merda! Che cazzo? Che cazzo c'è andato? Che cazzo c'è andato? Che cazzo c'è andato? E' lì! E' lì! E' lì! E' lui! E' lui! E' lui! Perso che non avassi capito! E' lì! Ed è lui! Ora dobbiamo andarci, gira subito, se tu fai pianino quei giri, in quella dell'entrancia qua, la nostra ombra cosa qui, beh si è attornati qui di sotto, e che giocoglioni, tutto nel foglio sto gioco, lascia meglio che il manicomio eh. Nooo, cazzo il neve, no, adesso nella registrazione vedrete che Porco 2 si è materializzato da nulla, io mi sono spaventato perché si è materializzato da nulla, figlio. Una uebra a Caglia, maledetto Roma. Un altro buco, no, 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 no. Io opterei per le scale. Ah sì, devo stare a Caglia. Che cazzo. Faccio una porta, andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Caglia? No. Ah non posso neanche, ma che cazzo, non posso neanche. Caglia? Ma non è il mucchio di cadaveri dove era un'altra volta? Ci sono accaduti? Eh. All'inizio del gioco? Certo. Ma non è troppo in basso rispetto all'inizio dove abbiamo iniziato? No, ma che cazzo non so. È un bel mucchio. È un bel mucchio di cadaveri. È un bel mucchio di cadaveri, fanciulla. Noi a caso abbiamo preso l'ala maschile, cioè quella buona, abbiamo preso la male invece che la femmina, l'abbiamo fatto bene. Incredibile. Troppo io ho la time. Ok. Che brutello. Stai avvicinando lì? Tu sei che è sexy? Che cosa? Sì. Ma mia Sharon Stone. Io manca lì. Ma è quello che ci ha fatto, che ha corso fino adesso. Non ha le braccia. È ben male. Ma è quello che correva davanti. Io non so più cosa dire. Allora. In questo momento c'è delle... Allora. Finger first. Then pay... Then pay... Then pay is... Merda. Bella, carina. Un bel ordine, per essere sincero. Dei poeti. Dei poeti. Dei poeti. Tu senza batterie. Mettiamoci qua. Salutiamo lui. Ciao caro. Ci va con lui. Facciamola, fate insieme un selfie. Selfieeeex. Allora. Anche per oggi è andato. Mi dovete un medico. Anche per oggi è andato. Mi dovete un medico. Un psicologo da un medico. Siamo arrivati qua. La prossima volta tocca a me. Senza batterie. Senza batterie. Grazie mille. Ma fallo tu quel pezzo. No. Allora. La luce. Dai. Due. Ho fatto anche la bossa arana sull'acqua. Che vuoi mettere? L'ho fatto io l'altra volta. Ho dovuto. Oh. C'era. C'era. Stai male. Stai male. A me vieni. Come sono? Ci vediamo alla prossima episodio. Ciao ragazzi. Mi raccomando. Mi raccomando. Mando su sto cazzo di canale. Dai eh. Io mi sul pezzo. Stai in tumore. Ciao. 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 Ciao.